ciao a tutti amici benvenuti in questa nuovissima collaborazione delle kawai simmer poco tempo fa avevamo concluso il progetto dei segni zodiacali quindi per far recuperare i segni zodiacali alle nostre amiche kawaii che sono dei blondi simmer lilith simmer e desi simmer che fanno i segni zodiacali primaverili abbiamo deciso di chi ha concluso i segni zodiacali di fare questo look book primaverile ho deciso di sfidarmi visto che era da anni che usavo i cc in the sims ho deciso di creare delle sim mine completamente senza cc dopo tanti anni ritorno a creare un sim o una sim senza cc ed è stato davvero una sfida così abituata a utilizzare cc in questo look book ho deciso di rappresentare una giovane adulta una bambina e una piccola toddler con i vestiti tipicamente primaverili io vi lascio il video mi raccomando rimanete fino alla fine perché alla fine del video c'è una piccola sorpresa vi ricordo di andare a vedere i video delle altre kawaii vi lascio nell'info box i loro link dei canali l'orario e giorni di pubblicazione io vi mando un grosso bacio e alla prossima ciao 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 ciao